Screening di massa su tutto il territorio. Dopo i test effettuati a Padula il 24 aprile, tutti i comuni del Vallo di Diano sono ora interessati ad effettuare screening di massa sulla popolazione che opera nei settori maggiormente esposti a rischio contagio. Screening effettuati con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali locali, ma anche controlli e tamponi di massa predisposti dal Dipartimento di Prevenzione e Protezione dell'Aslo di Salerno. I sanitari dell'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale del Mezzogiorno da diversi giorni sono presenti sul territorio valdianese per i prelievi sulle categorie maggiormente esposte per l'attività lavorativa esercitata a rischio di contrazione del virus. Sala Consilina è il comune interessato dal maggior numero di test effettuati e su cui si attende con trepidazione l'arrivo degli esiti, essendo anche risultato il comune che durante la fase di piena emergenza Covid è risultato il più colpito con una settantina circa di casi accertati ed un elevatissimo numero di persone sottoposte a controllo e a quarantena obbligatoria. 1.400 tamponi previsti e di questi ne sono stati prelevati dai sanitari circa 1.200 per i quali si resta ancora in attesa di ricevere gli esiti. Si conoscono invece gli esiti sui tamponi prelevati nei comuni di Caggiano e Sassano con ottime notizie diffuse direttamente dai primi cittadini Modesto Lamattina e Tommaso Pellegrino che hanno annunciato come tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo. Tutti negativi anche i tamponi prelevati a Sant'Arsenio. Solo a Polla, tra centinaia e centinaia di tamponi analizzati tra i quali si attende l'esito anche di ulteriori prelievi effettuati nella serata di ieri ma su un numero di soggetti limitato, è stato individuato fino a questo momento un soggetto risultato positivo al test Covid. A seguito di questa positività accertata si è reso necessario effettuare i tamponi sui familiari della persona risultata contagiata per i quali si resta in trevidante attesa sugli esiti. Come sono attesi per la giornata di oggi o al massimo domani i risultati sui 460 tamponi prelevati a Teggiano sabato scorso e si resta in attesa dei risultati anche a Montesano sulla Marcellana dopo i prelievi di circa 300 tamponi effettuati il 1 maggio. Ma le operazioni di screening di massa non si fermano qui. Ieri i sanitari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sono stati anche a Sanza per l'esecuzione dei test mentre oggi i sanitari sono a San Rufo per la campagna di screening promossa dal Comune. Giornata di prelievi di tamponi anche a Monte San Giacomo dove sono stati 122 test effettuati questa mattina in maniera rapida e senza disagi sulle categorie maggiormente esposte a rischio. Verifiche sui cittadini che vanno di pari passo con altri controlli promossi dal Dipartimento di Prevenzione e Protezione dell'Aslo di Salerno che nella giornata di oggi avvalendosi sempre del supporto dei sanitari dell'Istituto Zooprofilattico ha previsto prelievi di tampone anche su 27 soggetti dializzati che usufruiscono delle strutture convenzionate. Prelievi di tamponi sono previsti ancora in diversi altri comuni del Vallo di Diano tra cui San Pietro Altanagro.